Ci sono tre amici, uno juventino, un sampdoriano e un genuano che stanno facendo un safari. Ad un certo punto vengono presi da una tribù di indigeni e portati al loro campo. Al campo vengono accolti dal capo tribù che gli dice «Voi avete invaso il nostro territorio per punizione, subirete dieci frustate sulla schiena, però avrete a disposizione un desiderio». Il capo tribù inizia con lo juventino e gli dice «Qual è il tuo desiderio?». E lo juventino «Voglio venti frustate, perché noi juvenini siamo tipi duri». E così si prende venti frustate sulla schiena. Poi è il turno del doriano e il capo tribù gli dice «Qual è il tuo desiderio?». E il doriano «Voglio trenta frustate sulla schiena, perché noi doriani siamo tipi ancora più duri e tosti. E così si prende trenta frustate sulla schiena». «È il turno del genuano?». Il capo tribù gli chiede «Qual è il tuo desiderio?». «È il genuano?». Dice «Voglio duecento frustate, perché noi genuani».». Il capo tribù lo interrompe e gli fa «Ah, tu tifi Genoa!». «Bene, hai un desiderio in più, perché il Genoa è la prima squadra nata in Italia. Dimmi come primo». «Vuoi duecento frustate sulla schiena?». «Qual è il secondo desiderio?». E il genuano gli dice «Legatemi il doriano dietro alla schiena».